La Sandra Bate che al suo primo anno di Serie A stava raggiungendo risultati straordinari collocandosi nei piani alti della classifica insieme agli altri club che avevano dato disponibilità a proseguire la stagione ha tenuto nella giornata di ieri una Cal Conference. Il presidente degli Irpini Emiliano Marzullo ha incontrato virtualmente i numeri 1 di Italservice Pesaro, Acquessapone, Real Rieti e Camel Cosson. Al termine dell'incontro si è deciso di fermarsi, inoltre i club hanno sottolineato che presenteranno una domanda di iscrizione al prossimo torneo solo a determinate condizioni. Controllo scrupoloso di garanzia sull'ammontare dei contratti depositati in divisione, controlli periodici sui pagamenti degli emulamenti mensili da parte degli organi preposti, una Serie A con un numero di squadre partecipanti non superiori alle 16, aumento dell'ammontare della garanzia fideostoria o di incremento della tassa di iscrizione. Inoltre i presidenti puntualizzano che è legittimo in questo momento dare priorità alla salvaguardia della salute dei calcettisti ma allo stesso tempo ritengono affrettato l'atteggiamento assunto da determinate realtà che ancora prima di analizzare l'andamento dell'emergenza sanitaria e la sua evoluzione complessiva hanno scelto la strada della chiusura anticipata.